Con questo secondo video tutorial, dopo aver visto i primi passi prima della domanda, accediamo proprio all'istanza di personale ATA terza fascia. Andiamo in accesso in alto a destra sul sito del Ministero dell'Istituzione del Merito, clicchiamo su area riservata, accediamo tramite speed dall'area riservata. Dunque io sono già entrato con la login, andiamo su servizi, i tuoi servizi, le istanze online, andiamo su istanze online ed entriamo in questa pagina che già ci dà la possibilità. Qua vedete l'accesso per le gradatorie provinciali di supprenza di cui abbiamo fatto altri tutorial e poi c'è al centro gradatori di circo e di istituto di terza fascia ATA. Accedi direttamente da qui e quindi si accede in una pagina che è la pagina proprio dell'informativa per i dati personali e parla proprio delle gradatorie di circo e di istituto di terza fascia per il triennio 24-25, 25-26, 26-27. Dopodiché la domanda ancora non è inserita ma scendendo in basso e tracciando tutta questa pagina e dunque scorrendo in fondo a questa pagina si potrà prendere visione dell'informativa, fare accedi e quindi attivarci per entrare nelle pagine successive proprio alla compilazione della domanda. Questa pagina, la pagina dunque successiva dove si accede alla domanda che ancora ricordiamo è non inserita, ci dà la possibilità di scegliere la provincia di inserimento. Attenzione perché la provincia di inserimento, per esempio può essere scelta una provincia qualsiasi, però è fondamentale scegliere nel caso in cui si è inseriti in gradatorie di prima fascia, cioè nel 24 mesi in una data provincia, scegliere quella stessa provincia o altrimenti rinunciare alla prima fascia per andare solo in una terza fascia di altra provincia, altrimenti mantenere la stessa provincia. Noi nel caso specifico facciamo una scelta di una provincia come Reggio Calabria e dunque scendiamo in ordine alfabetico alla provincia di Reggio Calabria e la selezioniamo. Vedete qui abbiamo l'istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda. E' importante perché attraverso questa lente di ingrandimento si può scegliere quale scuola prendere, per esempio scegliamo una scuola del comune di Reggio Calabria e possiamo fare cerca tutte le scuole del comune di Reggio Calabria. Ecco, vedete tutte le scuole del comune di Reggio Calabria, si può selezionare a nostro piacere una di queste scuole del comune di Reggio Calabria e ottenere così la scuola capofila, cioè quella che sarà la scuola di riferimento. Chiaro che si può fare anche una ricerca più specifica, se io metto il codice meccanografico di una scuola di mia conoscenza potrò cercarla e ottenere la scuola che è la scuola di liceo scientifico Leonardo da Vinci me la seleziono e quindi in basso faccio seleziona e mi comparirà la scuola di riferimento. Attenzione perché questa scelta è molto importante perché darà a questa scuola la scuola capofila che andrà a valutare l'istanza. Attenzione perché è obbligatorio pure fare questa dichiarazione di consapevolezza per gli aspiranti presenti nelle gradatori provinciali permanenti che si è consapevoli che qualora io sia incluso nelle gradatori provinciali permanenti la produzione delle gradatori definitivi di terza fascia di cui alla presente istanza determinerà la cancellazione obbligatoria delle suddette gradatorie per tutti i profili perché non mi ritrova inserito in prima fascia sul Reggio Calabria. Dunque dovrò fare questa e dovrò dire che anche sono consapevole che qualora io sia incluso negli elenchi provinciali di esaurimento delle gradatori provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di altra provincia verrò la produzione delle gradatori definitivi di terza fascia di cui alla presente istanza determinarà la cancellazione obbligatoria delle suddette gradatorie per tutti i profili in cui sono inclusi dunque fatte queste due dichiarazioni facendo avanti procediamo con l'inserimento della domanda Grazie. Grazie. Grazie a tutti